Questo studio è uno studio randomizzato doppio cieco che ha valutato 251 pazienti con cardiomepatia ipertroficostruttiva, suddivisi fra braccio trattato con Mavacamten e placebo. Mavacamten è una prima molecola sviluppata secondo un concetto innovativo di ridurre in maniera selettiva con un inibitore all'osterico la interazione actomiosina all'interno del sarcomero che nei pazienti con cardiomepatia ipertrofica è geneticamente alterata ed è esagerata in maniera genetica, intanto da portare una specie di doping naturale del cuore che quindi è ipercontrattile. L'ipercontrattilità è alla base di molte alterazioni sia sulla fase diastolica che anche come proprio primo movens dell'ostruzione dinamica che è causa dei sintomi in molti di questi pazienti e spesso richiede trattamenti chirurgici o trattamenti con farmaci che stiamo utilizzando adesso che sono vecchi, sono beta bloccanti, calci antagonisti non di idropiridinici o disopiramide, farmaci comunque che hanno dei limiti sia come effetti collaterali sia come efficaci. Quindi è stato testato questo farmaco assolutamente innovativo, il primo farmaco sviluppato in maniera specifica per questa patologia in oltre 60 anni che la patologia è conosciuta. L'end point primario era una combinazione del miglioramento del consumo d'ossigeno del test cardiorespiratorio e della classe funzionale New York Heart Association, quindi di classe mia. E poi c'erano end point secondari, tra cui la riduzione del gradiente massimale da sforzo, il miglioramento del punto di classe funzionale, la riduzione dei biomarcatori e una serie di score per valutare il miglioramento soggettivo dei pazienti, cosa estremamente importante in questa patologia. Lo studio ha avuto un successo importante in quanto tutti gli end point sono stati raggiunti con un altissimo indice di significativa statistica, in particolare il 37% dei pazienti ha raggiunto l'end point primario, il 57% ha visto un'abolizione totale del gradiente e il 65% ha visto il miglioramento di almeno una classe funzionale. Quindi alla luce di questi test, senza contare una riduzione importantissima del proBNP e dell'atroponina nei confronti del placebo, cosa che fa pensare che non solo a un miglioramento estemporaneo a breve termine del gradiente, della sostituzione dei sintomi, ma anche a un possibile impatto sulla poniose lungo termine. Quindi direi che dovendo sintetizzare, questo è veramente uno studio importante, non voglio dire storico, però è la prima volta che un farmaco sviluppato per la più comune patologia genetica del cuore è arrivato a dimostrare in fase 3 un'efficacia assolutamente convincente con un profilo di sicurezza paragonabile al placebo.